La motos da Michelino, Torino contro Aurelio Con lo spettacolare Medi Italy che tutti ormai conoscete qui sulla pista di Rivanazzano Maggiolino che combatte gli americani all'est race ormai da diversi anni Devono cominciare a centrare il tempo di categoria Raffaele è giù tutto ma deve cercare di contenere la potenza della sua cuna per centrare il tempo Andiamo, siamo sull'11.0 12.197 per Raffaele velocissimo, 12.9, troppo alto anche per però